benissimo eccoci arrivati al secondo step per la realizzazione della nostra maglia nel primo step abbiamo realizzato tutte lo stesso pannello per la nostra schiena quindi abbiamo tutte fatto lo stesso lavoro nel secondo step quindi in questo step io invece cercherò di darvi delle indicazioni per poter modificare a vostro piacimento e secondo le vostre esigenze quello che sarà il davanti della vostra maglia ovvio che non posso darvi 50 indicazioni perché diventerebbe veramente impossibile veramente difficile però tre o quattro indicazioni per cambiare un pochino il vostro lavoro e quindi ognuno fare il lavoro che preferisce posso posso darvelo allora partiamo partiamo dicendo questo allora il vostro pannello dovrebbe iniziare con il granny e finire esattamente con il granny quindi da questa base noi adesso iniziamo a realizzare le nostre le nostre varianti il primo modello che andremo che vi posso proporre che vi vado a proporre è il modello con lo scollo a barchetta che è la lavorazione e la realizzazione di questa maglia nel modo più semplice in assoluto per realizzare uno scollo a barchetta cosa dovete fare? semplicissimo andate a realizzare un altro pannello identico a quello che avete fatto avete già realizzato quindi stesse catenelle stessa lavorazione stessa lunghezza per chi ha deciso di lavorare con di realizzare la maglia con lo scollo a barchetta e quindi con uno scollo diritto io ho consigliato di finire la lavorazione col punto granny questo perché? perché avendo lavorato tutte con filati differenti se avete lavorato con un filato leggermente più pesante del mio la lavorazione a maglie alte resta più rigida quando andrete a cucire le spalle e questa resterà la parte del collo se avete finito con la lavorazione a maglie alte resterà leggermente più rigida e quindi appoggiandosi sul collo potrebbe dare fastidio questo è il mio punto di vista poi se voi avete deciso di finire con le maglie alte e vi va bene non vi dà fastidio avete magari usato un filato morbido nessuno vi vieta di finire con le maglie alte perché ripeto questa è una maglia che ognuno deve realizzare come preferisce quindi io vi do dei consigli di base ma ognuno faccia quello che vuole quindi lavorazione scolla a barchetta pannello perfettamente identico a quello che avete appena realizzato non c'è altro da dire è proprio il modo più semplice di fare la maglia partite e realizzate il vostro secondo pannello la prima alternativa invece che voglio dare è quella di realizzare una scollatura leggermente arrotondata questo per chi non vuole la scollatura non vuole la scollatura diritta sul collo per chi poi volesse fare un colletto o semplicemente per chi preferisce avere un po' di rotondità allora si può realizzare una scollatura anche molto più grande però per iniziare e visto che non tutte siamo esperte alla stessa maniera in questa maglia io ho deciso di lavorare la nostra scollatura solo sulla lavorazione granny quindi cosa dobbiamo fare per chi vuole fare una maglia con una leggera scollatura inizia a lavorare il suo pannello lavora tutto il suo pannello perfettamente uguale a quello che ha realizzato in precedenza fermandosi all'ultimo giro di maglie alte perché quando iniziamo a lavorare il punto granny dell'ultimo modulo quello sul collo noi iniziamo a realizzare le nostre diminuzioni ora come realizzare le diminuzioni io ve lo farò vedere su il nostro solito campioncino quindi adesso smonto i miei due giri di granny e iniziamo lavorando sul campioncino le nostre diminuzioni per realizzare la nostra scollatura che vi ripeto non sarà una scollatura enorme sarà una leggera rotondità sul nostro collo allora facciamo conto che io ho realizzato la mia maglia e sono arrivata a realizzare l'ultimo giro di maglie alte adesso devo iniziare col granny e iniziare con le diminuzioni prima cosa da fare conto le mie maglie alte e trovo l'esatta metà in questo caso io ho 35 maglie alte la metà di 35 è 17 e mezzo quindi cosa faccio? conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 conto dall'altra parte 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 mi avanza questa maglia io metto il mio marca punti nella mia maglia quella centrale se io avessi avuto una numerazione diversa avrei messo il marca punti dove mi serviva e siamo a questo punto ora iniziamo con ovviamente nessuno avrà 17 maglie ne avrete tutte di più trovate il centro il vostro centro ora iniziamo con la lavorazione granny quindi io mi alzo di 3 catenelle giro il mio lavoro e vado a lavorare altre 2 maglie alte nelle maglie alte sottostanti quindi una e una 2 una catenella di separazione salto una maglia e vado a lavorare in quella successiva di nuovo lavoro le mie 3 maglie alte devo proprio realizzare ripartire a realizzare la lavorazione del granny come abbiamo fatto fino adesso è per tutta la maglia quindi 3 maglie alte una catenella salto una maglia alta e vado a lavorare di nuovo le mie 3 maglie alte vado avanti così finché non sono arrivata al mio marca punti 1 2 e 1 3 arrivata al marca punti io faccio una catenella salto una maglia di base vado nella maglia prima del marca punti e realizzo una maglia alta e abbiamo realizzato il nostro primo giro a questo punto io mi alzo con 3 catenelle 2 3 volto il lavoro e in questo caso cosa avremmo fatto saremmo andate a lavorare all'interno del primo archetto le altre 2 maglie alte siccome devo creare la mia scollatura io carico il filo salto tutte queste maglie alte e vado a lavorare nell'archetto successivo e realizzo le mie 3 maglie alte una 2 e una 3 e poi riprendo a lavorare il mio punto granny 1 2 e 1 e 1 1 2 e 1 3 arrivati alla fine del giro una catenella e vado a lavorare la mia ultima maglia alta nelle catenelle sottostanti perché la lavorazione poi resta la stessa abbiamo solo saltato una maglia a questo punto 3 catenelle 2 3 catenelle volto il mio lavoro e vado a realizzare altre 2 catenelle maglie alte all'interno del primo archetto 1 e 1 2 una catenella di separazione vado nel secondo archetto e vado a lavorare il mio granny lavoro il mio granny fino ad arrivare ovviamente a me qua adesso capita subito perché è un campioncino ma io lavoro la lavorazione granny fino ad arrivare all'ultimo archetto quindi questo prima della diagonale ok prima della diminuzione quindi faccio una catenella che l'ho saltata lavoro tutto il mio granny 1 2 e 1 3 siamo arrivati qui a questo punto una catenella e vado a realizzare una maglia alta all'interno dell'archettino quello in diagonale quello della diminuzione così volto 3 catenelle 1 2 3 volto il mio lavoro e a questo punto io dovrei realizzare 2 maglie alte all'interno del primo archetto ma siccome devo fare la diminuzione salto l'archetto vado in quello successivo e realizzo le mie maglie alte nello stesso modo eccolo qua e abbiamo realizzato un'altra diminuzione catenella e ricomincio con il mio granny vedete che stiamo creando la scollatura ora 1 2 3 4 andiamo avanti a realizzare la scollatura nella nostra maglia ovviamente questa no perché è un campione ma nella nostra maglia noi andiamo avanti a realizzare la stessa scollatura per tutti e 6 giri avremo una maglia che farà avrà una leggera scollatura dopodiché proseguirà diritta per la nostra spalla se non volete realizzare la scollatura per tutto il granny voi potete realizzare l'inizio di una scollatura come ho fatto io dopodiché gli ultimi due giri che vi restano 1 potete andarle a lavorare diritti quindi vi fermate con la vostra scollatura 1 e 1 2 1 2 e 1 3 se a questo punto non volete più scollare ma volete andare su diritti non fate altro che entrare nell'archetto dove avete fatto la diminuzione e realizzare le vostre tre maglie alte 2 e 3 così vi alzate 1 2 3 girate il vostro lavoro e ricominciate a lavorare la lavorazione qua dobbiamo fare un'altra catenella e vi lavorate il vostro granny per l'ultimo giro in maniera normale questo sta a voi potete scegliere io essendo solo 6 giri consiglio di fare la diminuzione per tutti e 6 giri perché tanto la scollatura resterà talmente piccolina e poi comunque cosa succede che noi realizziamo la scollatura ma poi le spalle vanno attaccate quindi una volta realizzata la scollatura la maglia andrà attaccata proprio dove c'è dove c'è lo scollo non è che possiamo poi a un certo punto attaccarne solo un pezzo e lasciare un lembo se realizzate la vostra scollatura poi tutta la parte che avanza dovete per forza cucirla quindi dovete crearvi il buco per il collo cioè non potete fare una scollatura piccolina così dovete per forza realizzare un buco e questa è una parte una volta finito il vostro giro ora vi faccio vedere voi realizzate la lavorazione granny avete finito la prima parte tagliate il vostro filo e andate ad attaccare il filo dall'altra parte per cominciare con la scollatura dall'altra parte quindi riprendete in mano il vostro filo entrate nel vostro lavoro vi alzate con 3 catenelle 1,2,3 e lavorate le 3 maglie alte per iniziare il granny 1,2 e 1,3 una catenella di separazione saltate una maglia andate in quella successiva e vi lavorate tutta la vostra lunghezza 2,2 e 1,3 fino ad arrivare nuovamente al marca punti 1,2 e 1,3 ok sono arrivata 1,2 e 1,3 una catenella salto una maglia vado nella maglia prima del mio marca punti e realizzo una maglia alta ora mi alzo con 3 catenelle volto il lavoro dovrei andare a lavorare in questo archetto ma lo salto perché devo fare la mia scollatura vado nell'archetto successivo e riprendo a lavorare 2 e 1,3 di nuovo una catenella vado in quello successivo e riprendo a lavorare e vado avanti così ricomincio a fare la scollatura anche dall'altra parte questo è il secondo modo in cui potete realizzare la vostra scollatura e la vostra maglia andiamo a complicarci un pochino la vita voglio una scollatura più profonda quindi cosa devo fare lavoro sempre il mio pannello ma invece di fermarmi all'ultimo modulo io vado a lavorare sulle maglie alte quindi vado a iniziare la mia scollatura sulle maglie alte realizzo la prima fila il primo allora come minimo dovete realizzare la prima fila di maglie alte perché se no la scollatura viene troppo profonda e troppo aperta quindi prima fila di maglie alte quella dovete realizzarla per forza dopodiché voglio iniziare la mia scollatura quindi andiamo a lavorare una scollatura che sia più profonda ricordatevi sempre una cosa allora voi iniziate con la scollatura più profonda e va bene ricordatevi che almeno 12 cm dall'inizio alla fine 12 cm devono devono rimanervi perché sono quelli della spalla che andranno giù quindi 12 cm da una parte 12 cm dall'altra 10-12 cm come minimo dovete rimanerli quindi non fate una scollatura che si piglia tutta la maglia perché poi come andiamo ad attaccarci dovrei farvi un altro tutorial per le cuciture ma le cuciture le facciamo tutte uguali quindi vi faccio vedere come si può fare le diminuzioni anche sulle maglie alte voi realizzate la vostra scollatura quando vi sembra abbastanza larga per farci passare il collo vi fermate e poi proseguite di nuovo diritte con la lavorazione granny quindi vado a smontare sul mio campioncino un po' di giri ok 3 bastano per farvi vedere voi ricordatevi che potete partire anche dal quinto quindi basta un giro di maglie alte conto sempre le mie catenelle le mie maglie alte e metto il mio marca punti sempre nella metà quindi 2 4 6 8 10 12 14 16 17 la metà è questa qua ok a questo punto io devo iniziare a lavorare con le maglie alte e iniziare le mie diminuzioni sulle maglie alte giro il mio lavoro e lavoro maglie alte normalmente come abbiamo fatto fino adesso quindi se il giro con le maglie alte lavorate sul retro le lavorate sul retro se il giro con le maglie alte lavorate sul davanti le lavorate sul davanti come avete fatto sempre quindi non non le solite maglie alte ma io adesso qua sono sul davanti vado a lavorare le maglie sul retro così e le lavorate normalmente fino al vostro marca punti dimmi amore bravo adesso questo ve lo faccio vedere così arriviamo insieme intanto ci ragiono ok siamo arrivati al nostro le ultime due maglie alte prima del nostro marca punti a questo punto carico sul filo lavoro mezza maglia alta carico su di nuovo il filo entro nella maglia alta successiva scarico mezza maglia alta e poi le chiudo insieme ora mi alzo uno due tre salto la prima maglia alta e vado a lavorare nella maglia alta successiva e così e così ho realizzato la mia prima diminuzione e ricomincio a lavorare le mie maglie alte tornando indietro quindi le lavoro sul filo davanti in questo caso sulla parte davanti aspetta così e arrivo fino alla fine del giro arrivata arrivata alla fine del giro io realizzo la mia solita maglia alta nella terza catenella del giro sottostante 1 2 3 mi alzo volto il lavoro e di nuovo lavoro le mie maglie alte normalmente siccome sono di nuovo sul davanti lavoro le mie maglie di nuovo prese dalla costina dietro e le lavoro fino ad arrivare alla diminuzione che ho realizzato nel giro precedente andiamo arriviamo a lavorare e ne è un attimo arrivate a dove mancano allora questa è la diminuzione arrivate quando ci mancano due maglie alte da lavorare carichiamo sul filo lavoriamo mezza maglia alta carichiamo sul filo andiamo nella maglia successiva carichiamo sul filo ne scarichiamo metà carichiamo sul filo e scarichiamo tutto insieme 1 2 3 voltiamo il nostro lavoro adesso fatemi contare 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 io ho finito le mie maglie alte devo andare a lavorare il grenny ora per lavorare il grenny a questo punto io dovrei lavorare 3 maglie alte consecutive 1 spazio 1 catenella ma devo andare avanti a fare la mia diminuzione per allargare la mia scollatura quindi 3 catenelle salto 1 maglia una 2 maglie del giro sottostante carico sul filo entro nella terza cosa c'è? ok carico sul filo salto una maglia vado in quella successiva e realizzo le mie 3 maglie alte 2 e 3 una catenella salto una maglia vado in quella successiva e realizzo le mie 3 maglie alte per il punto grenny salto una catenella e vado a lavorare così per tutto il mio giro arrivata la fine 1 2 3 mi alzo realizzo una quarta catenella e vado a lavorare nell'archetto e ricomincio a lavorare il mio punto grenny fino a dove ho realizzato la diminuzione ora io vi faccio vedere questo giro poi per lavorare le diminuzioni sul grenny non fate altro che andare a vedere come si lavorano le diminuzioni sul grenny nell'esempio di maglia che vi ho fatto vedere prima quindi sono arrivata alla fine carico sul mio filo entro nell'archetto delle diminuzioni e realizzo una maglia alta 1 2 3 volto il mio lavoro non vado a lavorare nell'archetto che mi si è creato ma vado in quello subito dopo 1 2 3 eccoci qua in questo modo noi abbiamo realizzato diminuzioni sia sulle maglie alte che diminuzioni sul grenny mi raccomando fate la larghezza del collo che vi serve realizzate la larghezza del collo che vi serve dopodiché continuate diritto perché ci serve comunque che ci sia una lavorazione lineare diritta per le spalle per le cuciture per cui c'è le nostre spalle questo è il terzo metodo la terza alternativa per la nostra maglia finite una parte staccate il filo e ricominciate a lavorare l'altra ovviamente l'altra potete decidere o di lavorarla sul rovescio quindi di ripartire da questa parte oppure di partire direttamente con le diminuzioni come si fa a partire con le diminuzioni semplicissimo fate le vostre 3 catenelle caricate sul filo e lavorate la prima maglia alta insieme alle catenelle e poi ripartite se vi viene difficile voltate il vostro lavoro e iniziate a lavorare dalla parte dietro è un pezzettino diritto di dietro non si vedrà che avete lavorato dall'altra parte il modo perfetto sarebbe proprio di partire da qua con questo io vi ho dato le 3 alternative per la maglia le prossime alternative saranno per creare un cardigan andiamo adesso invece a guardare quello che possono essere le alternative del nostro davanti realizzando un cardigan e non una maglia quindi avendo sempre come base il nostro pannello dietro sempre con io ve lo spiego con granny sotto e granny sopra dopodiché le eventuali modifiche che farete le farete di testa vostra quindi avendo questo pannello come base noi dovremo andare a realizzare per per creare un cardigan non un altro pannello unico ma due pannelli i due pannelli e qui parliamo della partiamo dalla lavorazione più semplice che è quella di un cardigan con due pannelli senza scollatura i due pannelli dovranno essere la metà esatta della lunghezza della larghezza della vostra schiena quindi se la vostra schiena misura 60 i due pannelli come base dovranno essere 30 e 30 quindi dovrete dimezzare le catenelle di partenza e partire con partire come base con 30 e 30 considerate però una cosa se voi realizzate due pannelli che sono perfettamente della dimensione uniti sono della dimensione del vostro dietro essendo poi aperti tenderanno a tirare e quindi i vostri pannelli lasceranno sempre nel mezzo un'apertura per ovviare a questa apertura voi dovrete andare ad aggiungere alla vostra metà pannello quindi se la vostra metà pannello è 30 centimetri almeno due o tre centimetri in più arrivare a un 32 33 centimetri se vostro pannello è 40 arriverete a 42 43 io vi sto dando delle misure indicative quindi voi stabilite qual è la misura che vi serve dopodiché andate a realizzare il vostro pannello che sarà perfettamente i vostri due pannelli che saranno perfettamente uguali a quello che è il vostro dietro solo usciranno una volta messi tutti e due io adesso non li ho quindi non ve li posso far vedere però una volta messi tutti e due estesi si sormonteranno leggermente quando l'avrete addosso questa sormontazione non ci sarà realizzando i pannelli diritti voi poi andrete a cucire quello che sarà la vostra spalla e questa parte verrà poi portata così resterà giù morbida in questo modo questo è il primo il primo metodo per realizzare un cardigan in maniera semplice senza diminuzioni senza niente voi realizzate i vostri due pannelli dopodiché quando cucirete le vostre spalline scenderanno scenderà da sole vi si formerà una sorta di colletto e questo è il modo più semplice la seconda alternativa che avete invece è quella di realizzare non avere la sorta di colletto che vi verrà a creare realizzando un pannello rettangolare ma creare delle diminuzioni in modo che l'effetto del vostro cardigan poi sarà approssimativamente questo per fare questo cosa dovete fare stesso procedimento quindi stabilire la lunghezza del vostro cardigan della vostra metà cardigan aggiungete sempre un paio di centimetri alla vostra metà iniziate a lavorare normalmente dopodiché dovrete calcolare quanto allora dovrete fare un calcolo dovrete calcolare quanto dovrete cucire e quanto sarà lo spazio per il vostro collo allora se avete una misura tipo la mia io ho una lunghezza di 48 centimetri vuol dire che la metà è 24 allora io calcolo più o meno di lasciare 12 e 12 24 20 anche 20 20 centimetri per il collo per lo spazio per il collo vuol dire che avrò un totale di altri 14 centimetri per la cucitura per la spalla quindi il calcolo che dovrete andare a fare è questo allora se voi avete io penso più o meno che 20 24 centimetri per l'ampiezza del collo sia una buona misura per tutti perché per quanto abbiamo taglie diverse però il collo più o meno è quello quindi già 24 20 24 centimetri è una bella ampiezza voi andate a misurare quant'è la vostra la larghezza quello che vi avanza sulla spalla stabiliamo che siano 14 centimetri a questo punto voi dovete far sì che le vostre diminuzioni quando partiranno andranno a finire proprio a 14 centimetri cioè il pannello vi deve finire con 14 centimetri che è la parte che andrete a cucire tutto il resto dovrà essere diminuito vedete se questo è il pannello qui ci sono i 14 centimetri dovrete andare a fare diminuzioni per tutta questa parte è ovvio che le diminuzioni non potranno partire dall'ultimo pezzetto di grenni perché sarebbero diminuzioni che non esistono non potete fare diminuzioni lasciare fare una diminuzione di questo tipo poi andare a cucire qua e poi lasciare questo pezzo perché questo pezzo poi non avrebbe più senso quindi dovete calcolarvi le diminuzioni in modo da arrivare ad avere i vostri centimetri per la cucitura della spalla deve essere proprio una lavorazione precisa e più o meno sicuramente dovrete andare a fare diminuzioni sia sulle maglie alte che sul punto grenni ora io vi faccio vedere come dovete fare le diminuzioni però poi il calcolo di quante diminuzioni quindi da dove partire lo dovete fare voi io non posso dirvi partite da qui o partite da qui perché a seconda dell'uncinetto del filato che avete e di tutta una serie di cose ognuno avrà un calo e una diminuzione differente quello che posso dirvi è se per caso vedete che partite troppo in basso quindi fate una diminuzione esagerata e poi avete meno spazio per cucire o stabilite che vi piace una scollatura più larga o viceversa che vi piace una scollatura più stretta e quindi poi andrete a cucire più più spalla e avrete un collo più stretto oppure potete fare una scollatura per un pezzo dopodiché fermarvi e questa parte raddrizzarla e andare avanti a lavorare in modo diritto creando questo movimento avrete una scollatura e poi il lavoro che prosegue diritto questo è fattibile però ricordatevi sempre comunque se è un cardigan la scollatura deve essere più bassa quindi più o meno o dalle maglie alte o addirittura dal giro di punto granny prima della fine del vostro del vostro pannello ora andiamo a vedere come fare le diminuzioni sul solo sul fianco allora abbiamo il nostro campioncino facciamo conto che questo è una metà della nostra davanti ora io ho solo il pezzettino ma voi tenete conto di averlo lavorato tutto siete arrivate a dove avete il giro di maglie alte potete decidere di partire dal primo giro di maglie alte il secondo giro il terzo giro io tengo tre maglie alte a questo punto inizio a fare la scollatura interna quindi ho fatto le mie tre catenelle carico sul filo entro no allora partiamo proprio da zero abbiamo finito il nostro giro di maglie alte ci tiriamo su con due catenelle due catenelle mi giro carico sul filo entro nella maglia successiva carico di nuovo sul filo entro nella maglia successiva carico sul filo scarico e a questo punto chiudo tutto assieme dopodiché mi sposto nella prima maglia alta libera che mi resta e ricomincio a lavorare e lavoro tutte le mie maglie alte e qui ho iniziato a fare la mia diminuzione lavoro le maglie alte fino alla fine del giro e ci vediamo alla fine del nostro giro non è arrivata la fine del mio giro ovviamente io non ve lo sto a dire ma le maglie alte dovrete lavorarle come avete lavorato fino adesso quindi nel giro diritto prendendo la costina di dietro nel giro a rovescio prendendo la costina davanti a questo punto io realizzo le mie tre catenelle volto il lavoro e vado avanti a lavorare di nuovo le mie maglie alte fino alla diminuzione ci vediamo la diminuzione vi faccio vedere come fare la diminuzione successiva sono arrivata in prossimità di dove ho fatto la diminuzione la mia diminuzione è qui allora io vado realizzo la mia maglia alta dopodiché ho ancora due maglie alte da lavorare quindi entro carico il filo e lavoro mezza maglia alta ricarico il filo entro nella maglia alta successiva carico il filo butto giù e poi chiudo e poi chiudo tutto insieme vedete che ci siamo spostati a questo punto una due catenelle giro il mio lavoro uno due tre quattro cinque vado a realizzare per me l'ultimo giro di maglie alte quindi carico il filo entro nella prima maglia alta successiva e ne lavoro solo metà carico di nuovo il filo entro nella seconda e ne lavoro solo metà e poi chiudo tutte e tre assieme e abbiamo realizzato vedete il nostro scollo ora io vado avanti a lavorare fino alla fine del giro e poi iniziamo col punto granny quindi lavoro tutte le mie maglie alte mi alzo inizio col punto granny ci vediamo alla fine del giro del granny che vi faccio vedere come andare avanti con le diminuzioni ho realizzato la mia lavorazione punto granny e sono arrivata vicino alle diminuzioni quindi mi manca ancora da realizzare la seconda maglia alta e la terza maglia alta a questo punto una catenella entro nell'ultima maglia che ho a disposizione mi alzo con una due tre catenelle volto il lavoro e ora io dovrei normalmente andare a lavorare all'interno del mio archetto invece carico sul filo mi sposto nell'archetto successivo inizio a lavorare il mio punto granny da questo archetto e poi continuo a lavorare il mio punto granny normalmente ecco qua vedete che siamo andati avanti a creare la nostra diagonale ora io lavoro il punto granny salgo e ricomincio a lavorare il granny e ci rivediamo quando andiamo a fare di nuovo la diminuzione ok sono arrivata all'ultimo archetto quindi nell'ultimo archetto io vado a realizzare sempre le mie tre maglie alte del punto granny 1 2 3 ora una catenella e andiamo a fermarci con una maglia alta all'interno dell'archetto quello in diagonale così mi tiro su con 3 catenelle volto il mio lavoro e non vado a lavorare nel primo archetto ma se devo fare ancora diminuzioni io vado a lavorare nell'archetto subito dopo 1 2 e 3 in questo modo vedete che la nostra diagonale va avanti e quindi va avanti la nostra scollatura ok allora se i centimetri non li avete se non avete ancora raggiunto i centimetri della vostra spalla voi andate avanti ancora per 1 2 3 4 altri 3 giri facendo le vostre diminuzioni e arrivate ai centimetri che vi servono sempre facendo lo stesso lavoro di diminuzione quindi saltando il primo archetto spostandovi quello successivo se invece arrivate a questo punto avete fatto le vostre diminuzioni vi rendete conto che la scollatura è sufficiente e vi serve la spalla la realizzazione della spalla non fate altro che fermarvi con le diminuzioni e quindi in questo caso andate a lavorare le vostre tre maglie alte nell'archetto subito che vi si presenta subito così poi fate la vostra catenella andate nell'archetto successivo realizzate di nuovo il vostro granny quindi le vostre tre maglie alte due tre e proseguite a lavorare i vostri giri in maniera diritta come avete fatto per tutte le lavorazioni ritornando a lavorare sul diritto voi qua proseguirete diritte quindi avete finito con la vostra scollatura e create il vostro pezzettino per la spalla questa è la lavorazione che dovete andare a realizzare sia da una parte e poi ovviamente dall'altra ma si fa nella stessa maniera allora l'ultima alternativa per il cardigan è un po' un fuori programma nel senso che mi è stato chiesto tenendo la lavorazione invece che in orizzontale in verticale come poter creare un cardigan in realtà è ancora più semplice che con la lavorazione precedente perché mentre con la lavorazione precedente man mano che si cresce bisogna stabilire quando realizzare la diagonale per le diminuzioni lavorando il davanti in verticale si semplificano le cose perché? perché una volta che voi avete stabilito lo spazio del vostro collo e quanti centimetri dovrete andare a cucire per la vostra spalla voi dovrete iniziare a lavorare il vostro pannello davanti per la lunghezza quindi con la misura della vostra lunghezza lavorerete le vostre catenelle e il vostro punto grenni inizierete poi passerete alle maglie alte poi passerete al punto grenni questo finché non avrete ottenuto un pannellino per intenderci un pannello della dimensione vediamo se riesco a farvi vedere così magari riuscite a capire mettete che mi servono 14 centimetri 14 centimetri sono tre moduli quindi un grenni uno di maglie alte e un altro grenni io vado avanti a lavorare in maniera lineare quindi andate ritorno andate ritorno normalmente per i miei tre pannelli e ho fatto la dimensione della mia spalla quella che poi andrò a cucire dopo di che inizierò a lavorare le diminuzioni come ve le ho fatte vedere nella spiegazione precedente quindi come come abbiamo realizzato le diminuzioni prima andremo a lavorare le diminuzioni anche adesso ma continueremo con le nostre diminuzioni finché non avremo raggiunto la misura che ci serve per l'ampiezza del nostro pannello quindi se il nostro pannello ci serve di 30 centimetri una volta che noi abbiamo stabilito che con 14 centimetri abbiamo realizzato la nostra spalla e questa sappiamo per certo che andremo a cucirla iniziamo a realizzare le nostre diminuzioni fino ad arrivare ad avere 30 centimetri di pannello ovvio che 30 centimetri non le avremo qui perché qua abbiamo fatto le diminuzioni i 30 centimetri li avremo più in basso dove le diminuzioni saranno finite quindi voi fate le diminuzioni come ve le ho fatte vedere per il cardigan precedente quindi andate giù vi mangiate il pezzettino andate giù iniziate dove volete dalle maglie alte dal granny da quello che vi serve man mano misurate quando arrivate oppure sapete che per il pannello sotto avete realizzato 6 moduli sapete che dovete realizzarne 3 e un pezzettino perché vi serve il pezzettino in più quindi vi tenete controllate quando arrivate alla misura giusta sapete che avete finito le diminuzioni da fare è più semplice che lavorare dall'altra parte perché dall'altra parte bisogna fare dei calcoli mentre qui voi avete già pronto avete già pronta la vostra ampiezza della spalla ora io per l'ampiezza della spalla vi ho dato 10-12 centimetri sulla mia taglia ovviamente una taglia più grande avrà una spalla più grande questo dovete calcolarlo voi dovete provarvi il pannello addosso stabilire quanto spazio per il collo vi serve e quanto quanta manica volete tenete in considerazione che questo lavoro scende un po' giù dalle braccia cioè non è proprio a livello spalla cade la cucitura cade quindi quello che dovete andare a studiare è la larghezza del collo una volta studiata la larghezza del collo saprete in automatico quant'è la larghezza della vostra spalla poi da cucire detto questo io penso di avervi spiegato tutto ci vediamo dopo aver realizzato i nostri pannelli per proseguire col nostro progetto grazie a tutti